Come lo aprirebbe Matteo Salvini? Io non lo tocco perché è nero! Come lo aprirebbe un animalista? Non toccatelo, potrebbe essere in via di estinzione! Ma è di cioccolato! Che animale è il cioccolato? Come lo aprirebbe Rocco Siffredi? Come lo aprirebbe il Movimento 5 Stelle? Siamo in diretta streaming e apriremo l'uovo davanti a voi per farvi capire che la sorpresa non l'abbiamo scelta prima! Come lo apriresti tu? Buona volta, scuasosi!